Di chi è questa terra, Henry? È mia. Bene, bene, bene. Il nostro eroe di guerra è finalmente arrivato. Hai fatto bene a tornare qui. Gli Osage sono le persone migliori, più ricche e più belle sulla Terra. Gli Osage sono i più svegli di tutti. Decidono loro a chi va il petrolio. Ho una domanda. Le donne ti piacciono? È il mio punto debole. Bene, uniamo queste famiglie e i soldi del suo patrimonio scorreranno verso di noi. Somikassi, ecco che cosa sei. Non so che hai detto, ma deve essere di sicuro bel ragazzo. Io sì. Perché sei venuto qui? Lavoro con mio zio. Hai paura di lui? No, lui è l'uomo più buono al mondo. Gli Osage, il loro tempo è finito. Dobbiamo riprendere il controllo di casa nostra. Mi hanno mandato qui da Washington per risolvere questi omicidi. Abbiamo così tanti morti che abbiamo perso il conto. Si tratta solo di sfortuna. Mi sembra più un'epidemia che una sfortuna. Gli Osage muoiono per mano nemica. Non lasciateli morire, soli. Il male circonda il mio cuore. Dobbiamo fare una scelta. Non so neanche se mi ami ancora. Ma certo che ti amo. Allora uccidi chi ha ucciso la mia famiglia. E tua moglie di chi ha più paura. Non fare qualcosa che rimpiangerai per tutta la vita. Io non ho altro che rimpianti.